Sul corpo della poliziotta aquilana, che si è uccisa con la pistola d'ordinanza, sarà fatta l'autopsia, ma sicuramente si tratta di un gesto volontario. Aveva appena accompagnato i figli a scuola di 18 e 20 anni, poi si è appartata in un rudere vicino la casa per togliersi la vita. In questura c'è ancora dolore e incredulità per la morte di Anna Maria Chiacchia, di 45 anni, in servizio presso il compartimento di polizia stradale, che ha deciso di togliersi la vita con la propria pistola d'ordinanza. Per questo la polizia di Stato dell'Aquila ha anche annullato per il momento la cerimonia per la festa della polizia. La donna, come si diceva, assistente capo coordinatore della polizia di Stato, dopo aver accompagnato i figli a scuola, è tornata nella sua abitazione, spostandosi di pochi metri, ha deciso di farla finita. Non arrivando in ufficio, i colleghi hanno pensato di allertare il marito della donna, che lavora nella scuola della Guardia di Finanza all'Aquila e finanziere. A sua volta l'uomo ha allertato la figlia, che ha cominciato a cercare la mamma, a rimvenire il corpo senza vita dell'agente, suo fratello. Inutile l'arrivo degli operatori del 118, che hanno potuto solo constatare l'avvenuto decesso. Sul posto il sostituto procuratore, Roberta Davoglio. Tutta l'area è stata sequestrata, così come la pistola. La donna non ha lasciato, a quanto sembra, nessun biglietto per giustificare il suo gesto e né nessuno aveva notato in lei dei segni di insofferenza.